per far crescere altri alberi di mele esattamente Peppa nonno, nonno, ti prego anch'io voglio piantare un seme ti va di piantare un seme per far crescere delle fragole? sì, tantissimo questo piccolo seme diventerà molto presto una pianta di fragole deliziose per prima cosa devi fare un buchino nel terreno poi devo mettere il seme lì dentro e ricoprirlo con la terra vuoi che lo annafio per te, piccola? no, nonno, voglio annafiarlo da sola molto bene adesso aspettiamo che il semino germogli Peppa e George aspettano che il seme cominci a germogliare non sta succedendo niente, nonno dovrai essere un po' paziente, Peppa il seme ci metterà molto tempo a germogliare Peppa, George, è ora di tornare a casa ma stiamo aspettando che la mia pianta di fragole cresca, mamma volevo mangiare le fragole per merenda non ti devi preoccupare la prossima volta che verrai il seme sarà diventato una bella piantina e noi ci mangeremo le fragole allora certamente andiamo, Peppa? ci vediamo presto, nonno ci vediamo presto, fragole Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig